Confiscati beni per oltre 5 milioni di euro nei confronti di un imprenditore tarantino che opera nel settore della commercializzazione dei mitili. La confisca ha interessato due ville, un appartamento, otto magazzini, un terreno ubicati a Taranto, Castellaneta e Martina Francano, che è il 50% di quote societarie, 5 compendi aziendali operanti nel settore dei mitili e frutti di mare in genere, 5 auto, 3 moto e 5 rapporti finanziari. L'operazione della direzione investigativa antimafia che ha eseguito il decreto di confisca emesso dal Tribunale di Lecce, in seguito alle indagini effettuate dal DIA in collaborazione con la direzione distrettuale antimafia di Lecce, a seguito di vicende giudiziarie conclusesi a carico del 53enne con una condanna per associazione di tipo mafioso, estorsione e violazione della disciplina sulla detenzione delle armi. Le indagini hanno permesso di accertare come l'uomo, pur non avendo formalmente dichiarato redditi sufficienti a giustificare le sue rilevanti disponibilità economiche, sia riuscito ad accrescere il proprio patrimonio personale ed impreditoriale, ricorrendo anche all'intestazione di beni a congiunti e a prestanomi.